Pier Nicola Silvis, scrittore, ha pubblicato 5 libri, 5 romanzi, ex questore di Foggia, per anni dirigente della Polizia di Stato. Lei come si presenterebbe? Io sono un poliziotto, prima di tutto. Sono un poliziotto nell'anima, nella mente, nella mentalità che ho mantenuto dal mio lavoro, nella mentalità onesta e anche rigida. Però sono uno anche che ama scrivere romanzi, inventare storie, lo faccio da quando ero piccolo, quindi ho avuto questa opportunità qualche anno fa. Nel 2017, sei mesi prima di andare in pensione, è uscito il mio ultimo romanzo, For Me, che è con la casa editrice Sam di Milano, neonata, siamo nati insieme. E quindi sono una persona che ha lasciato un lavoro bello e ne ha trovato un altro e tanto bello. Nasce a Foggia, da una tranquilla famiglia del Sud, una laurea in giurisprudenza e poi una lunga carriera nella Polizia di Stato, 35 anni, le appunto ricordava, da poco in pensione. Una carriera che ha contato anche numerose, importanti operazioni anticrimine. La più importante, ne cito una su tutte, è stata la cattura di Giuseppe Piddu, Madonia, all'epoca il numero due di Cosa Nostra dopo Totò Rina. Quando e come ha deciso che la sua vita l'avrebbe dedicata a questo? Sì, è una domanda interessante perché c'è un motivo, nel senso che ero destinato a prendere la laurea in giurisprudenza per seguire la laurea di mio padre che era avvocato. Però durante il percorso universitario c'è stato il caso Moro, le Brigate Rosse, ci sono stati gli attentati di Namitardi, tanti morti, decine di morti e non so, in quei 4-5 anni di università mi è venuta fuori una cosa che non sapevo di avere da ragazzino, c'è il senso della giustizia e allora mi sono detto non posso laurearmi per tirare fuori i delinquenti, io li voglio mettere dentro. E così ho deciso di fare o il magistrato o il funzionario di polizia dopo la laurea. Questo da funzionario di polizia mi ha dato molto bene il concorso e sono molto soddisfatto anche perché ho avuto una carriera fortunata. Il suo ultimo incarico, lo ricordavamo prima del pensionamento, è stato quello di questore nella città di Foggia, che è appunto poi la sua città. Lei è stato tra i primi a parlare di quarta mafia, a sollevare il problema della mafia foggiana e quando dico mafia foggiana intendo anche quella garganica cerignolana che per tanto tempo è stata sottovalutata, è stata considerata quasi una mafia di serie B. Ci sono voluti poi morti innocenti, pensiamo ai fratelli Luciani, per alzare il livello d'attenzione e per mettere in atto un'operazione massiccia di intervento da parte dello Stato che sta producendo tanti risultati. La domanda è però se tanti anni di silenzio hanno in qualche modo rafforzato le mafie di questo territorio. Questa è una domanda importante perché la criminalità organizzata foggiana è quella garganica che esiste da anni, ma non esiste da 1800 come esistono la Camorra, la Cosa Nostra e l'Andrangheta. È una criminalità che è nata verso la fine degli anni 70. Sul gargano si è sviluppata dalle faide pastorizie, tra pastori diventata una vera e propria mafia, la cui mefiosità è stata accertata dalle sentenze per 416 bis. Quella foggiana è nata dal famoso incontro di Raffaele Cutolo con alcuni boss foggiani alla fine degli anni 70 in un albergo. Poi i foggiani si sono affrancati da Cutolo che voleva fare la Camorra organizzata e portarla in Puglia, ma i foggiani l'hanno espulso e sono rimasti autonomi. Quindi è una criminalità organizzata che nasce alla fine degli anni 70 e non è una criminalità organizzata vecchia, datata. È una criminalità organizzata che ha fatto molti morti, ma ne ha fatti tanti di morti, centinaia di morti, omicidi, che ha messo decine e decine di bombe e le sta mettendo, non è che parliamo di anni fa. Ci sono stati anni in cui abbiamo avuto 40 morti in città, c'è vero e proprio guerre con killer professionisti a cui viene detto vai, uccidi quello, non ti chiedi neanche perché, lo sai che lo devi ammazzare. È una cosa impressionante, in una città di neanche 160.000 abitanti. E questa purtroppo è stata una mafia sottovalutata, sottoconosciuta per vari motivi. Intanto perché era una mafia giovane, poi perché non ha avuto il clamore cinematografico di un padrino, di un Vito Corleone, di una Gomorra o dell'Andrangheta che si dice che i narcos messicani si tolgono il cappello solamente davanti agli dranghetisti e non davanti a nessun'altra mafia di questo mondo. E i narcos messicani sono gente che purtroppo uccide con facilità. E quindi è una mafia che non ha clamore. Poi ci sono altri motivi. Un motivo importante è che è una criminalità organizzata che non ha ritualità, non ha i riti di affiliazione. Voluti, la DDA di Bari, la Direzione Distrattuale Antimafia di Bari, ritiene che questa mancanza di riti di affiliazione, tipo il Santino Bruciato, come fanno in Calabria, in Sicilia, sia voluta. Perché poi se un testimone dice che ha visto Tizio Caio sottostare un rito di questo genere è un elemento della fattispecie criminale. Se io invece non lo vedo, creo più difficoltà agli inquirenti. Non posso testimoniere niente. Vedo una persona, esatto. Si identifica più facilmente il mafioso. E poi è una mafia che non ha mai alzato il tiro. È sempre rimasta alla bomba che butta giù la Serranda o all'omicidio per le guerre di mafia. Tra cui ricordiamo i quattro morti del Bacardi, nel famoso attentato del Bacardi del 1986, in cui si fu l'affrancamento sia dalla Camorra sia dalla Sacro Colomunita che stava cercando di entrare nel Folgiano e non c'è mai entrata, è sempre rimasta confinata nel Salento. Quindi è una criminalità organizzata che ha in qualche modo evitato, perché purtroppo è brutto dirlo, ma noi che abbiamo il polso, io che ho avuto il polso, non ce l'ho più, ma che ho avuto il polso della situazione anche da cittadino di Foggia, devo dire che si ammazzano fra di loro. Questa è la frase che c'è. Ma invece non è vero, perché l'omicidio è prima di tutto un omicidio. Secondo luogo un omicidio, e quindi una persona non deve essere mai ammazzata, per quanto precedenti penali possa avere, e in secondo luogo un omicidio è comunque un pericolo, perché quando si spara con una pistola, con una K-47, con un canno e mozio, con una mitragliatrice Scorpio Nouzzi, il rischio è che ci sia una pallotto lavagante che ammazzi qualcuno innocente. Però fino adesso, fino al 9 agosto del 2017, non era successo. Per cui omicidi, anche omicidi brutti, prima di lasciare il servizio, fra maggio, giugno e luglio del 2017 ci sono stati ben otto omicidi di mafia, soltanto in tre mesi. Ma omicidi col Kalashnikov, con i killer cinematografici, soltanto che al di fuori di qui poi nessuno ne sa nulla. Tant'è vero che quando poi il 9 agosto, c'è dopo 9 giorni che ho lasciato il servizio, sono stato avvisato della strage di San Marco in Lamis, in cui sono morti i poveri, i compianti fratelli Luciani, purtroppo la cosa non mi ha meravigliato, perché mi sono detto, beh, dopo 8 morti, tra il Gargano, tra Foggia, Torre Maggiore, c'era un escalation in atto e quindi, il giorno dopo il ministro dell'interno, il 10 agosto, l'11, non mi ricordo, è venuto di persona a Foggia a coordinare le cose. Io ero un allarme che avevamo già dato dal 2014, io sono arrivato alla fine del 2013, a dicembre, già nel 2014, subito a gennaio e febbraio, anche perché conosco la zona, essendo io di qui, conosco la zona, conosco bene le realtà, le difficoltà e abbiamo cominciato a fare segnalazioni. Poi sono scelte, sono valutazioni di tipo politico, quello che si deve fare o non si deve fare. Noi, e posso dire con certezza che la questura di Foggia era ed è una delle prime questure d'Italia, siamo tra le 4-5 questure che lavorano meglio a livello di ordine pubblico, a livello di arresti, a livello di investigazioni. Io lo voglio dire qui pubblicamente in televisione, la questura di Foggia tutt'oggi è considerata a livello ministeriale una delle migliori del paese. Ci sono investigatori eccezionali, ci sono persone che passano le giornate a sentire intercettazioni telefoniche, gente che conosce il posto, che conosce i delinquenti e ce ne sono parecchi, tra Foggia e Stan Severo, Cerignola. Sono posti dove si lavora H24 per le forze di polizia, cose che forse molti non sanno, ma i poliziotti e i carabinieri naturalmente anche i carabinieri sono eccellenti, cose che la gente non sa, ma le forze dell'ordine veramente si spaccano la schiena per il cittadino. E quindi meritatissimi, assolutamente doverosi tutti i rinforzi poi arrivati, insomma, che stiamo vedendo anche adesso. Ora lei fa lo scrittore a tempo pieno, quindi una vita... Sono stati costituiti due uffici importanti dopo la visita del ministro Minniti. Da un lato è stato costituito il reparto di prevenzione crimine a Stan Severo, che quindi con una serie di pattuglie che vengono utilizzate in tutta la provincia di Foggia, Gargano, Foggia, Manfredone, Cerignola, Stan Severo stesso. E il cacciatore di Puglia dei carabinieri, che è un reparto specializzato dei carabinieri, di paracadutisti, che operano specialmente sul Gargano, perché sono abituati a entrare nelle casolari abbandonati, nelle grotte, nelle rupe, nelle gravine, eccetera. Abbiamo avuto modo di conoscere il loro straordinario operato. Oggi lei, dicevamo, fa lo scrittore a tempo pieno, una vita certamente più serena, più tranquilla, però non scrive romanzi d'amore. Comunque i suoi libri sono del genere thriller, romanzi noir, quindi in qualche modo possiamo dire che tanti anni nella polizia, comunque, nello scrivere poi è stato condizionato da questo. Sì, devo dire che a me proprio piacciono i thriller da sempre. Io quando ero ragazzino leggevo Gialli Mondadori, segretissimo, quindi parlo di 15-16 anni, quindi mi sono sempre piaciuti. Quindi se dovevo scrivere qualcosa avrei dovuto scrivere comunque un thriller, un noir. Poi il fatto di aver fatto il funzionario di polizia, di aver fatto il poliziotto, mi ha dato degli strumenti che magari mi hanno privilegiato in questo, perché conoscendo bene quali sono le tecniche investigative vere, quali sono le mentalità di poliziotti, di carabinieri, di magistrati, i rapporti che ci sono fra loro, conoscendo bene anche il codice di procedura penale, il codice penale, che non sempre ti permettono delle cose vincenti e molto cinematografiche, ma anzi ti costringono spesso e volentieri ad abbassare la testa e a dire vabbè vedremo la prossima volta. Ecco, questo mi ha consentito di poter scrivere effettivamente, unire la fantasia con la realtà che conosco e nella spera, e la difficoltà grossa, se proprio devo essere sincero, è stata di fare delle cose interessanti, scrivere delle cose interessanti che acchiappino il lettore, che acchiappino il lettore, pur mantenendo fede ai principi del codice di procedura penale, che certe volte non è molto interessante. Ecco, una difficoltà è stata questa di riuscire a incastrare, a rimixare queste due cose, sì. La lupa è il suo ultimo romanzo, edito da Sam, segue il di Formiche, ed è un romanzo, un thriller ambientato in questo territorio tra il Gargano e Foggia. Leggo alcune recensioni. È un romanzo che ci porta nella pancia della società foggiana, la quarta mafia. Ancora, questo scrittore conosce bene le storie che racconta, grazie alla sua carriera, ai vertici della polizia. Chiariamo però che racconta di fatti e personaggi di pura fantasia, giusto? Beh, assolutamente, sì. Ultimamente, in molte presentazioni, anche per la presenza di persone particolarmente qualificate, abbiamo molto parlato di criminalità organizzata, ma in realtà non è un saggio, si tratta proprio di un romanzo assolutamente godibile, è un romanzo di assoluta finzione. Certo, i rapporti tra poliziotti, io le descrivo come veramente sono, le indagini le descrivo come veramente sono. E questo è un di più. I malavitosi sono come veramente sono, cioè non è che ho dovuto inventare nulla. Purtroppo alcuni omicidi che sono inseriti in questo libro sono stati commessi davvero. Ho cambiato nomi, cognomi, ambientazioni per mantenere la privacy, però sono stati commessi davvero. Quindi, è un romanzo di fiction che ha un'aderenza, una certa aderenza alla realtà, però poi la fantasia è sicuramente andata avanti al galoppo, perché non voglio scrivere saggi, mi piace scrivere cose di fantasia. Dopo la dolcissima dedica a mia madre, leggo una frase. Questa dannata guerra finirà quando saremo troppo vecchi per goderci la pace. Jim Morrison. È una riflessione amara questa, però? Purtroppo sì, è una riflessione amara, però io credo che ci sia bisogno di riflessioni amare, perché sono quelle che colpiscono le persone. Essere troppo ottimisti in un libro del genere non è positivo, non è favorevole allo sviluppo delle indagini, non è sfavorevole alla fine di questa malavita che c'è nella provincia di Foggia. Lo stesso libro è pessimista, nel senso che le due mafie foggiane e garganica si stanno unendo, con una serie di vicende adrenaliniche sicuramente, e credo che le persone debbano avere un po' paura per potersi riprendere, per poter scendere in strada. Poi dico, è scesa in strada Corleone, è scesa in strada Casal di Principe, potrà scendere in strada nella città di 160 mila abitanti civili come Foggia, una città dove la gente vuole vivere, abitata da tanta gente per bene, che vorrebbe campare serenamente, aprendo un negozio e vivere dei propri proventi. E purtroppo in questo momento da anni la cosa non è così, la gente tende a scappare. Io spero moltissimo che invece lo Stato dia sempre di più come forza dell'ordine, come magistratura alla città di Foggia, però ci deve essere anche una sveglia sociale nella città. Nel genere noir, che è appunto già la parola stessa, nero comunque lo dice e lo racconta, ma c'è posto solo per le ombre o può esserci posto anche per la luce? Beh, la luce ci deve essere sempre. Il noir è un genere che serve anche a esplorare la società, la realtà italiana e anche straniera. Io con questo personaggio, la lupa è un seguito di Formiche e ho dovuto creare una prosecuzione logica di Formiche, anche se si può leggere in maniera del tutto autonoma perché poi si spiega, il meccanismo, l'intreccio si spiega. Però il personaggio di Bruni, del poliziotto, che è molto reale, molto realistico, è un funzionario di polizia che non è limitato a un territorio, ma può spaziare in tutti i territori nazionali, perché è un funzionario dello SCO, del servizio centrale operativo, quindi può andare da Aosta a Trapani, compreso l'estero e credo che lo sfrutterò, per cui nel prossimo romanzo ci allontaneremo un po' dalla Daunia in questo senso. Ci sposta geograficamente. Eh sì, perché sarebbe anche… Ci sta dando già un'anticipazione del prossimo, perché ci sarà un sequel anche della lupa? Ci sarà il personaggio continuo, un po' perché è un collega e attraverso lui continuo a fare il mestiere di prima. È strana questa cosa, ma io attraverso… È comprensibile. Attraverso Rezzo Bruni continua a fare il funzionario… Tant'è vero che ci ho tolto, ma mi sembra di aver tanto lasciato il servizio. Per cui si continua, ma va in un'altra realtà, con tutt'altro tipo di situazioni. Il seguito della lupa ci sto pensando, si lascia naturalmente delle porte aperte, si lascia. Vedremo, dipende da come va il libro, se qualcuno me lo chiederà, insomma, da una serie di cose. A me comunque Bruni serve, prima perché è un personaggio che mi piace, è un collega, sono innamorato di questo personaggio, che ho creato volutamente molto realistico e consente anche di esplorare parecchi punti della società civile italiana, parecchie zone. A proposito di società civile italiana… Non solo la criminalità organizzata di serial killer, cioè non noi viviamo soltanto di criminalità organizzata di serial killer, ci sono anche tante situazioni… Ci sono anche le risposte a tutto questo. Ci sono le risposte… L'impegno sociale, la cultura… Ci sono tante cose, sì, che funzionano. Infatti in questo libro, più che in formiche, ci sono parecchie puntatine anche di tipo socio-politico, non so se ha notato. Sì, quindi c'è, per questo le chiedevo, perché c'è anche un po' di luce, no? Nel senso che comunque si intravede comunque anche un aspetto, comunque delle facce, che poi è quello che succede nella realtà. Lì dove c'è tanta violenza e tanta criminalità, spesso proprio in quei posti, le risposte, attraverso l'impegno sociale, attraverso la cultura, sono ancora più cariche di energia e di passione. Sì, sicuramente, sì, certo, sicuro questo. Lei ha girato l'Italia per il suo lavoro… E la sto girando per l'altro lavoro. E la sta girando per rappresentare il suo libro e ha detto comunque di conoscere, di aver avuto modo di conoscere usi e costumi degli italiani, pessime abitudini e buone abitudini. Non gliele chiedo tutte, perché non abbiamo il tempo. Mi dice solo una, secondo lei, buona abitudine degli italiani ed una pessima, invece. Ma io… tutti gli italiani sono uniti da una cosa, dal nord al sud. Dall'italianità, cioè che ha portato praticamente questo paese a essere un paese di persone che comunque sono arrangiarsi. Il sapersi arrangiare, da un lato, è una cosa molto importante, perché se vai in un ristorante di Manhattan e dici siamo in quattro, ma c'è un tavolo per due, ti dicono no, no, non c'è posto. In Italia si prendono altre due sedi e si mettono. Questo è un piccolo esempio. E questa è una cosa importante, perché tutti ci invidiano questa cosa. Però poi tutti ce la contestano, dicendo che siamo ruffoni, non siamo rigidi con le regole. Ecco, tutta l'Italia è così. Poi il nord ha degli usi più di un certo tipo, il sud ha degli usi degli altri, il centro è un mix perfetto fra l'uno e l'altro, le isole sono mondi a sé stanti, affascinanti. È una nazione molto affascinante, molto bella. Ma quest'arte di arrangiarsi, di saper crollare, arrivare in fondo e poi con le unghie di risalire, ce l'hanno tutti. Ritengo che questo sia da un lato un pregio, da un lato il difetto con cui forse ci punzecchiano all'estero, però ritengo che comunque resti un pregio. Leggo nella sua biografia, di molte cose fatte sono orgoglioso, di altre meno. Qui sono buona, non voglio sapere quello di cui non è orgoglioso. Invece le chiedo una cosa della quale è orgoglioso. Una su tutte. Potrei dire con facilità l'arresto di Madonia, perché dopo le stragi di Falcone e Borsillino, il 6 settembre del 92, con lo scocco, il servizio centrale operativo in Veneto abbiamo arrestato il numero due di Cosa Nostra. Però quello di cui sono realmente orgoglioso, questa era una cosa professionale, come persona di non aver mai chiesto niente a nessuno. Non ho mai avuto un aiuto, né sotto il profilo politico, né ho chiesto aiuti a nessuno. La carriera mi è andata bene, sono stato fortunato. In quest'altro tipo di carriera sta andando bene e non ho chiesto aiuto a nessuno. Sono orgoglioso di questo, sono uno che ha le spalle dritte. Posso dirlo davvero con sincerità. Lo dico a tutti, e lo dico spesso anche ai giovani colleghi, ai giovani scrittori. Andate avanti e fate le cose di qualità. Vedrete che scomportatevi con equilibrio, con calma e con cautela. E questo secondo me è la ricetta vincente. Noi la ringraziamo per essere stato qui, per aver risposto alle nostre domande. In bocca al lupo per la sua carriera da scrittore, in bocca al lupo per i suoi viaggi che appunto la vedranno presentare il libro. Ricordiamo La Lupa, edito da Sam, in giro per il nostro bel paese. Grazie ancora per essere stato qui. Grazie, grazie.